Musica Bella a tutti ragazzi, io sono Sergio Zagero e bentornati sul mio canale Oggi siamo tornati con un nuovissimo video sulla serie di Fortnite Infatti ci sono tante tante news Andremo subito a vedere nelle cose oggetti Eccolo qui, intanto lo shop giornaliero E poi eccole qua, Fortnite, pacchetto, leggende, estive E' ufficialmente arrivata l'estate Nuove sfide, nuove skin, questo ultrapack E intanto diamo uno sguardo anche a tutto quanto lo shop Abbiamo in cassaforte, ci torniamo subito Lo analizziamo bene, 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 con calma Abbiamo una nuova musica, il dispositivo Infatti una risata molto, molto urtante Stemhot Non la prendo Poi abbiamo il pacchetto che stavano dicendo Le leggende estive Andiamo ad analizzare prima di acquistarlo Abbiamo la fiaba estiva Che praticamente sarebbe questa variante di una skin che uscì Nella stagione 5 Poi abbiamo il pugno tropicale di Zoe Che è bellissima questa skin La stagione 4 o 5, non so se mi ricordo bene E la voglio assolutamente in questa nuova variante E la sbananita, tutte e tre Con diversi stili Eccoli qua, andiamo a vedere La sbananita Con il cappello senza cappello Con l'occhiale senza gli occhiali E' Orribile ma fa parte del pacchetto Quindi andiamo a mettere nell'armadietto Senza nessun problema Poi abbiamo il pacchetto trappoliere E quando riguarda i backpack anche essi Hanno delle varianti Qui la fiaba estiva ce l'abbiamo Bianca e nera Bianca e nera Rossa e nera Con e senza cappuccio Eccola qua E poi ok non ci sta Zoe Quindi vuol dire una stili selezionabili Eccola qua Che secondo me Vabbè no, tutte e due belle Tutte e due molto belle Tra nella banana Eccola qua il pugno tropicale E niente ragazzi Fighi pure i backpack Io direi che L'andremo ad acquistare Senza se Senza ma Senza lode Senza infamia Eccolo qua Lo buttiamo dentro Il nostro armadietto Ma tra una shop ragazzi Andiamo la gialla rossa Il pigiamino La nostra velocità Il set Dell'avvoltoio La pigia margherita Difensore scarlatto E oscilla Diciamo un refill di V-Bucks E andiamo ad acquistare Questo nuovo Pacchettino Ho visto che usciranno Anche tante Nuove skin Sempre per L'evento Dell'estate Molto molto Belle anche quelle Inoltre Usciranno Tra poco Il video tutorial Sul mio canale La notizia Dei picconi Di Iron Man E di Hulk Quindi probabilmente Ci sarà un'altra collaborazione Con La Marvel E quindi con gli Avengers E comunque Rimanete connessi Anche sulla mia pagina Instagram Andate a seguirmi Vi lascio qua sotto Il link in descrizione Per rimanere sempre connessi E non perdere Nessuna delle mie News Così vale Anche per I video Un attimo Qua la connessione È quella che è E andiamo ad acquistarlo La faremo Ecco Eccoli qui ragazzi Andiamo a vedere questi Items che abbiamo sbloccato Al prezzo di 20 euro Alle tre skin Eccolo qua Pacchetto tra poliere Con i rispettivi Backpack E Li porteremo subito In game In un prossimo video Bella Ciao